Il 20 giugno l'ARIF di Puglia ha dato l'avvio alla campagna IB, prevedendo per la sola provincia di Foggia 86 assunzioni. Assunzioni che però non sono partite, nel frattempo il territorio brucia. Stiamo vedendo ogni giorno dei focolai, soprattutto sull'area del Gargano. Focolai che rappresentano intervento generalmente di Canader, Canader che costano mediamente 14 mila euro l'ora. Quindi molto probabilmente se all'atto deliberativo fosse seguita l'assunzione pratica, forse si sarebbe evitato un danno ambientale gigantesco, perché bruciare 500 ettari di bosco significa perdita dal punto di vista naturalistico. E in aggiunta si sarebbero risparmiati tanti soldi, 14 mila euro l'ora è l'equivalente di un'assunzione part time a tempo indeterminato di un lavoratore. Avete chiesto cosa si è inceppato? Stiamo verificando dove vi sia stato l'inghippo, fra Arif Puglia che dice che le disposizioni sono state impartite, Arif Foggia che dice che non hanno ricevuto disposizioni, il dato di fatto è che il territorio brucia, che la collettività butta via soldi e che vi sono persone che attendevano di essere chiamate in forma precaria, ma chiamate per avere un minimo di occupazione che stanno in attesa che partano queste benedette assunzioni. Tra le vostre istanze c'è quella di muoversi per tempo in inverno piuttosto? Ma noi facciamo delle proposte che sono davvero scontate. La scontatezza è che se io ho il sottobosco e il sottobosco non lo pulisco, si crea una condizione che favorisce gli incendi. Se io non creo delle linee spegni fuoco, io sto generando una condizione per cui se si accende il fuoco a mattinata, tranquillamente arriva a Vieste, guardate quello che sta avvenendo in queste ore davvero riporta alla mente quello che è accaduto quattro anni fa dove si sono incendiati i campeggi, dove vi è stata una situazione davvero emergenziale. Noi chiediamo che non si arrivi a queste emergenze, che si faccia una programmazione seria di intervento e che questi interventi siano volti a ridurre da un lato il dispendio economico e dall'altro a mettere in sicurezza un territorio che ha bisogno di sicurezza.